Allora, i bassini, quelli bassi un po' davanti, gli archi dietro... Francesco Illiana, siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Quando sto con lui stacco, cioè non penso a niente, problemi, lavoro, come se si crea una realtà a parte. Il suo miglior pregio, che è buona. È buona, chiamola così, è molto buona. Non puoi trovare una persona... È quasi buona, cioè spettacolare. Oh, dì. Oh, dì. Oh, dì. Grazie. Laura, Laura, ancora lo spieghi? Cioè il tornare a casa e vedere lei, questa è la cosa a me. Cioè c'è il fatto che tu torni a casa e sta lei che ti chiama Morino, da quello ti dà tanto. Comprendersi, anche quando non puoi capire. Rispettare la diversità dell'altra persona, accettarla e comprendere. Non stava brava, dai. Non stava brava. Non stava brava, dai. Non portare la delle nostre emprezature. Diviscita. Non stava brava. Non stava brava. Grazie a tutti. Grazie a tutti.